La linea elettrica Sono dentro Se riesci a collegarmi alla rete della ChemSynth Potremo accedere ai file personali di Freeman Ricevuto, dove devo andare? L'ufficio di Freeman è al secondo piano Passerai sul retro Per cui dovresti incontrare poca resistenza Per cui dovresti incontrare la mia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puta struzza, quello era il mio ultimo dollaro. Andiamo, prendi il segnale. Forza, ho scommesso una bella cifra su questa partita. Grazie a tutti. Maledetto tos, vado a prendere una bebita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono pronto. Ancora nessuna notizia di Leon? Niente. Merda.